Buongiorno a tutti, ho lanciato a fare questa campagna di sonnato di legno, mi ha consigliato le 5 campagne del 4, adesso ascolto la santa messa del campagna di legno del 8 e mezzo, lì fra il tempo lo faccio vedere, questi sono i due campanoni, le domenziane e la piccola, adesso ascolto la distesa della santa messa delle 8 e mezzo dal campagna di legno, mi ha consigliato delle 8 e punto, batti sul campano, scampano io la distesa del campano della menzana, 4 e 5 la distesa del campano della seconda campana e poi alle 8 e 7 la distesa del del campano della seconda campana e poi alle 8 e mezzo, batti mezz'ora sulla menzana e poi a la melodia Ave Maria di Lud, quindi a presto, non campanata, buon ascolto a tutti, ciao riprendiamo anche i tocchi 3451 ragazzi, a dopo. B Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.